Ciao a tutti, sono Elle e benvenuti al mio canale per questa molto attesa narrazione di Hanayori Dango. Eravamo rimasti a Tsukushi che era rimasta vivere da sola perché i suoi genitori, che sono degli scriteriati, sono andati a vivere in una cittadina di mare con la speranza di trovare un lavoro al padre come pescatore. Alla fine questo deleritto non stava guadagnando niente, non stavano mandando soldi a Tsukushi. Vabbè, lei se la stava cavando in un qualche modo, i suoi amici, ormai F4 sono i suoi amici, c'erano venuti a trovarlo in questa casa che sarà stata 30 metri quadrati di bilocale, è dire tanto. E le avevano regalato dei mobili perché lei non ne aveva mezzo, i mobili erano così bellini e pesanti che hanno sfondato il pavimento e lei è finita senza casa. In questo momento di massima disperazione ha incontrato Kinsan, la Makusa, quello che aveva incontrato durante il concorso Misty North Japan, un altro figlio di riccone che si era innamorato di lei, che però viveva come lei proprio, in un appartamento fatiscente perché aveva rinunciato all'eredità morale paterna e quindi se la stava cavando per conto suo. E lui aveva chiamato la famiglia Domioggi per rimproverarli insomma di non aiutare Tsukushi che era finita in questa situazione terribile. E lei alla fine si ritrova a svegliarsi in casa di Domioggi, è stata in realtà prenderla Tsubaki e alla fine Tsubaki dice visto che ti sei scontrato con mia madre, di nuovo le hai detto che non deve venire a entromettersi nella tua vita, che combatterai contro di lei, allora perché non resti qui, che è il modo migliore per farle rispetto. E Tsukushi non vuole saperne di accettare l'ospitalità, cioè non è che in effetti c'ha ragione, non è che poi puoi dire a una stizia ti combatterò insomma e poi vengo a vivere gratis sotto il tuo detto. E quindi la grande idea di Tsukushi è quella di mettersi a fare la cameriera in casa. E poi torna Domioggi e lei si presenta alla lui dicendo buongiorno signorino, insomma che cosa posso fare per voi? Tsubaki all'inizio è molto contraria ad assumere Tsukushi come cameriera, però questa signora che vedete nella foto è la governante della casa, era andata in pensione, è stata richiamata dalla madre di Domioggi perché solo lei sapeva come gestire tutto il personale, ha deciso che questa ragazza deve essere assunta e deve essere utilizzata come cameriera personale del signorino Tsukasa. In realtà la tizia ha capito in pratica che Tsukasa è innamorata, non lo vedeva così da un po', vuole dargli insomma quello che vuole alla ragazza che desidera. E qui le sta dando tutta una serie di compiti, perché ok che potrebbe essere la fidanzata del signorino, ma nel frattempo è una domestica e quindi dice devi tipo cenerentola, svegliate alle 5, devi pulire il pavimento, alle 7 la colazione, dopo la scuola torni qui correndo, non vai in giro, dopo devi pulire i bagni, insomma mille cose. E infatti Tsukushi almeno si trova un po' un lavoro, questo è il suo lavoro, però insomma lo trova un po' difficile. Però la signora la conduce in una stanza, a parte questa stanza e sembra una suite di un hotel perché la signorina Tsubaki ha insistito perché ok se Tsukushi voleva lavorare lì va bene, però in una stanza adeguata a lei perché è sempre una specie di ospite. C'è un interfono e Tsukushi chiede chi è che la può chiamare lì e la tizia le dice che è perché il signorino possa chiamarla quando ha bisogno di lei. E Tsukushi infatti dice allora cosa intende? E la tizia le dice sei lenta di comprandonio, no? Se il signorino ti chiama devi andare a servirlo, non importa che ora del giorno della notte. Tsukushi ovviamente non ci sta mica, no? Posso pulire tutto quello che ti pare, ma non mi potete costringere a fare la cameriera privata di Domioggi. E la tizia mi piace come va dritta al punto. Le chiede sei innamorata del signorino, no? Perché prima stavi cercando di baciarlo e l'altra... Ah, in realtà era tutta colpa sua! E la tizia prova a raccontarle che questa casa è cambiata molto da quando lei se n'era andata un anno prima. Adesso la padrona sembra un po' più fredda. Quello che mi ha sorpreso di più però racconta il cambiamento che è avvenuto nel signorino mentre stavo in questa casa lui non rideva mai, no? Non l'ho visto così felice dalla scuola elementare. Ed è tutto per merito tuo. Una responsabilità di un impiegato è rendere felice il cliente. Perciò se ho deciso che devi fare la cameriera privata del signorino così deve essere e non voglio sentire una parola sull'argomento. Io ho detto qui le leggi, no? E lei è rimasta così. Certo che se intende anche di favore di tipo sessuale si chiama fare la magnacia. E lei è lì che si chiede, oddio no, come faccio adesso? Perché quell'altro pretenderà chissà che cosa. Penserà che essere la sua cameriera personale implica chissà quali tipo di favori. Già si immagina che lui la chiami mentre è nudo. Tipo, lei ha sempre questo tipo di pensieri assurdi. E si immagina che possa anche aggredirla. Ho paura, deve essere uno scherzo. E infatti dice, ok, mettiamoci subito col pigiama e andiamo a dormire. Prima che ne abbia la possibilità. Ed è lì che si nasconde sotto le coperte. E poi si ricorda, bacio tra Sukasa e Shigure. Quella che era la sua fidanzata fino a poco prima. Pensa tra sé. Non posso negare che mi abbia scioccato vedere loro due che si baciavano. E vederli insieme poi quella volta in quella villa in cui siamo andate. Immagino di essere stata gelosa, no? Ma quando mi guardo a dritto con quello sguardo, io non so che fare. Non so proprio come comportarmi, no? Quando vengo inseguita ho voglia di scappare. Voi sapete quante volte io abbia detto che Machino, insomma, deve darsi, Tsukushi Machino, deve darsi una regolata, deve capire che cosa prova, eccetera. Questo capitolo tuttavia, questo capitolo scusate, questa parte di trama che racconterò oggi, spiega molto bene perché in fondo i dubbi di lei avessero un fondamento, ok? Mette in luce i difetti di Domioggi. È il motivo per cui lei non gli ha ceduto prima. E perché d'altronde quando è invece insieme a Rui è sempre così tranquilla. Sara dice, Tama è proprio un bel personaggio, molto legata a Tsukasa. Tama è la tizia, grazie di avermi detto il suo nome, la tizia sarebbe la governante, sì esatto, ecco. Infatti la mattina dopo Tama le chiede, no? Ma hai dormito abbastanza? E l'altra c'ha le occhiaie. Non si sentiva a suo agio, non ha dormito perché da un momento all'altro pensava che stava per essere chiamata. E intanto ci sono questi maggior dobi che stanno per andare a svegliare il signorino e Tama gli dice, no non c'è bisogno, ci va lei. E quindi ci va. E lei pensa, devo solo comportarmi in maniera naturale. E quindi ecco, lui sta dormendo nella sua mega stanza, anche questa sembra una suite. Prova a svegliarlo lì dalla porta, uè mattina, Domioggi è mattina, farai tarda a scuola, no? E non si muove di un centimetro e pensa, forse è morto. E gli si avvicina. E poi qui c'è un solito momento in cui, degli scioggi, in cui il personaggio femminile guarda il tizio che dorme e pensa che, insomma, non so se diceva che aveva ciglia lunga o comunque che era molto innocente, sembrava un bimbo. E poi si avvicina, insomma, per vederlo e l'altro, la stritola e un urlo. E infatti arriva correndo Tsubaki, no? E l'altra è lì che sta saltando addosso a Domioggi, pestandola. Poi sono vestiti e l'altro, ehi, non puoi svegliare. Svegliarmelo in una maniera un po' più carina e gentile, no? E lei dice, ma scusa, davvero dormivi? Mica ci credo, no? Non ti ricordi che mi hai stretto? E l'altro, io stavo dormendo, no? È stato un incidente, ok? È un incidente, non mi ricordo niente. E lei è lì che rossisce. Che razza di sogno, insomma, sporcaccione stavi avendo, no? E l'altro le risponde, idiota, tutti gli uomini fanno quel tipo di sogni. Non entro in macchina per andare in macchina, e lei no, vuole camminare. E poi si gira un ultimo momento e gli dice, Domioggi, non dormire nudo, no? Non verrò a svegliarti. E l'altro sta lì che se la ride, ah, sei imbarazzata, assolutamente no. E dall'alto Tsubaki le guarda e dice, Tama, no? Penso che tutta questa situazione sia un po' strana. E l'altra, invece, se la ride, dice, no, no, guarda come sono pieni di energia. Quindi lei ha architettato tutto perché finisca bene tra loro. E proprio mentre sta uscendo dalla casa dei Domioggi, Tsukushi incontra gli altri F4, chiede a tutti perché non stanno andando a scuola in macchina, e gli altri si stupiscono di trovarla là fuori. Capiscono che sta arrivando dalla casa di Tsukasa. Lei non vuole in realtà dirgli all'inizio la verità, perché sa che soprattutto Nishikado è un pettegole, non vuole che si sappia a scuola. E invece glielo dice. E si viene a sapere, ovviamente, infatti tutti dicono, eh, sta lavorando nella casa di Domioggi? Cosa è? Il sogno di diventare una specie di cenerentola? Chissà che cosa. E Tsukushi sempre a vostra faccia e non ha dormito un accidente. Dice, pensa, Nishikado, io t'ammazzo. Poi in classe viene a prenderla proprio Domioggi. Dice, Tsukushi, andiamo a casa. E la trascina addirittura, prendendola per mano, e lei dice, senti, non puoi darmi ordini qui, non sono la tua cameriera. E lui chiarisce che non ha mai pensato a lei come la sua cameriera. E l'altro, ok, allora comincia a comportarti di conseguenza. Sanno sempre questo solito atteggiamento, lui prepotente, e gli amici sono lì allegri perché sono finalmente insieme. E subito Mimasaka lì pensa, pensandoci, la mia prima volta è stata con una cameriera mentre andavo alle medie e Nishikado. Non penso che Maki non sia disposta a fare una cosa del genere, ma dipende da Tsukasa. E infatti tra loro fanno una scommessa, cioè così a parole, dice, stanotte Tsukasa potrebbe avere successo o fallire. Commettiamoci 50.000 yen, 50.000 yen è tipo 500 euro. E gli altri stanno tornando in macchina. La mano di Tsukushi le fa male perché lui la stretta troppo, e l'altro le chiede, non fammi vedere, e quando le avvicina in pratica le sta leccando la mano e lei subito la ritira. Che cosa stai facendo? È tutta imbarazzata, gli chiede se è un animale e tra sé pensa che lui è diverso da qualche giorno prima. Tsukasa si spiega, dice, ho deciso di non esitare con te. E lei dice, esitare non ha mai esitato come prima, e lui, a mezzanotte suonerò la campanella e verrai nella mia stanza. Ta-da! E l'altra, perché a mezzanotte? E lui dice, cercavo di far sì che Tama non ti veda. E quindi questo era l'incovo di Tsukushi che sa vera. Lui esce dalla macchina e lei prima di uscire gli dice, domi oggi che non verrò nella tua stanza, non puoi usare il tuo potere di datore di lavoro. Come impiegata io insomma protesto. Lui invece le dice, no? Guarda che se non vieni tu, vengo io nella tua stanza. E poi se ne va, e l'altra? Oh no, a mezzanotte, no? Che devo fare da questo momento in poi? E intanto Tama è lì che li ha guardati, e infatti pensa, vuoi davvero andare nella sua stanza? Protesti ma alla fine si è tornando indietro nella limusina del padrone, no? Lei, no no, di che parli? Torna, entra in casa per mettersi a lavorare. E poi è lì durante il giorno che ha questo incubo che pensa, oddio, che cosa farà lui? Anche se mi metto a urlare, nessuno mi aiuterà in questa casa. E intanto sta sporcando in pratica. Invece di pulire Tama se ne accorge, Tsukushi scappa e decide di andare a parlare con l'unica che la potrebbe salvare, ovvero Tsubaki, che in quel momento è impegnata, sta uscendo con un tizio, non ho capito con che, o forse quello è il suo cameriere, ha una cena comunque. Tsukushi le chiede se può parlarle, ma lei non ha molto tempo, anzi le chiede addirittura di cenare insieme a Tsukasa, perché sennò è da solo. Le chiede anche se il lavoro per caso è troppo pesante per lei, e lei no, no, non è un problema. E poi ha fretta e quindi deve andarsene. E Tsukushi, quando torni? E l'altra? Più tardi, domani mattina. E quindi purtroppo sono lì, da soli e l'altra. Domani, no? Sarà troppo tardi, ormai che faccio, che faccio? È sempre molto preoccupata, pensa che la sorella era la sua ultima speranza, e vuole sfogarsi con qualcuno, vuole chiamare Yuki, la sua amica, e l'amica in realtà dice anche io volevo parlarti, ma ho una cosa da dirti, mi sono trovata un fidanzato. È il suo primo ragazzo, le dice che è un suo compagno di classe, non sarei mai immaginata di uscire con lui, e quindi passano il tempo a parlare di questo tizio. Dice che a un certo punto lui le ha chiesto di uscire, poi sotto la pioggia si sono baciati, e le Tsukushi... un primo bacio al tuo primo appuntamento, insomma, con lei che ci mette dei tempi biblici a figurarsi. E quindi Yuki dice ho deciso in quel momento che lo amavo, voglio che tu venga qualche volta con me a incontrarlo. Tama appare dietro le spalle di Tsukushi, le dice non sembra che tu ti stia divertendo, no? Il signorino è pronto per la cena. Tsukushi si rende conto di non aver parlato con Yuki del suo problema, ovvero che teme insomma di incontrare Tsukasa quella sera. Yuki dice ah mi spiace, no? Mi volevi parlare anche tu che cosa? Ma non c'è più tempo perché è ora di cena. E Tama poi dice aspetta non puoi andare a cenare così con l'uniforme, no? Devi cambiarti i vestiti. E le va lei stessa a guardare nell'armadio e le tira fuori questo vestitino dice questo è bello è il mio miglior vestito e quindi vanno nel salone con questo mega tavolo e poi Tsukushi è lì che pensa questa non è una cena per fidanzati, per amanti e le danno questi piatti stupendi. Sono seduti tutti e due uno all'altro capo del tavolo quindi non c'è questa grande intimità. L'altro le dice anche che posate usare e mentre lei si sta concentrando sul buon cibo lui è lì che la fissa e le dice anche che è molto carina così e lei si arrossisce, no? Ma di che parla? Ti comporti in modo strano cioè il fatto che uno le fa un complimento e lei dice ti comporti in modo strano infatti è ancora tutta imbarazzata dice è pericoloso stare qui potrebbe fraintendere le cose non ho detto che avrei combattuto contro quella megera e intende la madre di lui per noi due, no? E devo essere onesta con lui e infatti poi pensa addome oggi non arrabbiarti anzi non pensa glielo dice ho bisogno di più tempo non so se ti amo o meno e so che dovrei insomma decidermi però ed è lì e vede che lui non dice niente e si è alzato da tavola non l'ha neanche visto e infatti il cameriere gli dice scusi no? il signorino si è ritirato nei suoi appartamenti e quindi la sera è lei lì che cerca di trovare una qualunque scusa per non andare da domioggi va da Tama e dice simpaida non potremmo giocare a carte nella mia stanza e l'altra no idiota che non sei altro e quindi Tsukushi poi pensa mi metto a dormire me ne frego e poi si ricorda che lui aveva detto se non viene la mia stanza vengo io nella tua e infatti poi si alza oh mio dio alla chiave quindi è ancora peggio e l'ora passa si avvicina la mezzanotte e qui le viene anche da piangere mio dio ho così paura dice no? questa volta lui non si preoccuperà dei miei sentimenti qui si capisce un po' comunque che lei ha questa sensazione di non poter parlare con domioggi che lui non l'ascolterà sarà prepotente e avrebbe bisogno di un approccio più delicato ecco si è approvato a nascondersi con la testa sotto il cuscino e intanto questi due scemi sono lì Nishikado e Mimasaka che sono la parte comica di questa storia Claudia dice è super emotiva sì per quello le piaceva uno come Rui che non le faceva alcuna pressione ma perché lui non la voleva quindi era quel piccolo dettaglio che lei non aveva compreso ma intanto i due scemi interpretano la loro solita scenetta è una bellissima notte sì tesoro anche se questa è una notte bellissima tu sei ancora più bella stai scherzando anche se sono scema qualche volta anche se sono scemo qualche volta sono sempre serio davvero domioggi ma chino domioggi si immaginano questa scena d'amore mentre Rui sta lì che guarda Mimasaka dice se solo Tsukasa riuscisse a essere avesse questa tecnica che abbiamo noi e fosse un po' più gentile invece le uniche cose che è capace di dire è zitto bastardo e ti ucciderò e si chiedono insomma se succederà qualcosa quella notte perché Mimasaka dice la situazione è perfetta dopo tutto Tsukasa ha mollato la sua fidanzata adesso lui e Tsukushi vivono nella stessa casa e la madre di Tsukasa è in Europa quindi è la situazione ideale non c'è nulla che possa interromperle piange addirittura dalla gioia al pensiero Nishikato si rende conto che l'altro è un po' troppo emotivo e dice ma che è hai perso la tua fidanzata per caso e Mimasaka si mette a piagnucolare e dice suo marito ci ha scoperto e stava per ammazzarmi e loro non avranno quel tipo di ostacoli perché Mimasaka se vi ricordate è uno che amava andare con le donne più grandi per forza prima o poi doveva incappare nell'ira di qualche marito e pensano per aiutarlo per aiutarlo cioè di andare a casa di lui per spiarle insomma e intanto Tsukushi sente che la stava chiamando su casa con il telefono l'interfono e finalmente il telefono ha smesso di suonare e quindi e poi pensa che è scema è così è così che sono nervosi i soldati durante la guerra no? per favore salvatemi da lui non sono la sua fidanzata e fare una cosa del genere intende sesso con lui è sbagliato no? e non possiamo nemmeno parlarne perché lui è un idiota e non mi ascolterebbe e poi pensa non rimarrò che ad aspettare di essere violentata devo scappare andrò da Yuki per un po' per rifugiarsi da lei e poi si ricorda che l'amica le ha parlato della sua fidanzata insomma è felice non ha bisogno che qualcuno le dia i suoi problemi e si ricorda anche che l'amica diceva quando mi ha baciato ho capito che lo amavo e poi si stava già mettendo la giacca e pensa no ho baciato domi oggi diverse volte ma non ho mai notato niente del genere e se andassimo più in là di un bacio è lì che sbatte la testa contro il muro ma è troppo cretina Claudia dice beh perché lui è super istintivo lei è troppo bloccata un mix esplosivo Sara dice Nishikada e Mimasaka sono fantastici salvate la cameriera Tsukushi dice Claudia sì vero troppo divertente e intanto Tsukushi pensa che non può sacrificarsi sta per uscire dalla porta e Tsukasa è venuto a prenderla mi ha fatto aspettare troppo a lungo e in braccio ha qualcosa di particolare ed era là fuori in realtà dalla porta e lei chiede ma da quanto stavi qui e l'altro no non stavo qui da tanto tempo non sono uno stalker no e Tsukushi penso che sia troppo tardi oramai per fare qualunque cosa e lui zitta deve essere tardi e lei no tardi o presto non posso fare una cosa del genere e la porta nella sua stanza e invece di saltare là addosso va verso il balcone e si mette a montare quell'attrezzo e lei sta attaccata alla finestra e pensa ma è un bazooka quello è un telescopio e poi si rende conto di essere stata una cretina perché si era immaginata chissà che cosa invece è lui lì che sta guardando alle stelle no e infatti tutti i castelli in area che si era costruita sta cercando qualcosa e non trova e lei lo sposta e dice fa vedere a me lei dice non riesca a vedere nulla e poi passa un'ora un'ora in cui hanno tutto il tempo stavano guardando solo le stelle anzi Domioge stava guardando cercando qualcosa e lei Domioge ho sonno cioè basta puoi andare a dormire che fai cerchi un marziano no sono andati a fare shopping su Giove e poi lui si illumina perché ha trovato quello che gli interessava ha trovato dice guarda guarda e si mette lei si mette a guardare vede un pianeta e chiede che cos'è e lui dice quello è Saturno e lei si entusiasma che bello no sarebbe sembra un piccolo gioiello sarebbe bello metterlo in una collanina no se fosse della della dimensione giusta lui va dentro e prende una scatolina e gliela dà le dice aprila e lei chiede che cos'è quando la apre trova che dentro un gioiellino una collanina con questo charm a forma di Saturno e in pratica scopre che lui se l'è fatto fare su misura per darglielo dice è con diamanti e rubini ed è tuo e poi lei rimane un po' così e poi pensa che non lo vuole accettare perché deve essere troppo costoso e lui dice non importa le dice che lo aiuterà a metterlo Claudia dice che amore che è una cosa tenerissima sì per una volta e lei dice senti me lo provo un attimo però non lo accetto e poi se lo vede addosso e pensa com'è bello questo regalo questo gioiello e poi prova finalmente a essere chiara dice senti sono felice ma non ho ragione di prendere questo regalo e lui la abbraccia da dietro che c'è di sbagliato nel dare qualcosa di bello a qualcuno che amo e continua a stringerla pinguino dice che carino lui per una volta Sara dice questo regalo è meraviglioso un significato profondo che si porterà fino alla fine livello della temperatura dice Claudia a 3000 e infatti la stringe e lei invece di divincolarsi dice riesco a sentire il suo cuore che batte o è il mio e poi prova a dire domiogino lasciami andare pianino e lui no e insomma lei si volta e l'altro la stringiamo più forte e in pratica accade è quel che deve accadere ve la lascio vedere un secondo mi sembra giusto Claudia fa la faccina la cosa diventa bollente e Tsukushi pensa oddio non posso muovermi non riesco a parlare Sara dice finalmente eh sì finalmente c'è questa lunga scena non so quanto durerà questa cosa pensa Tsukushi perché non lo rifiuto no? perché ho paura o perché sono confusa? la seconda pensa in quel momento mi sono ricordata delle parole di Yuki non so ancora se lo amo o no intende Tsukasa però non voglio rifiutare i suoi baci e poi insomma si sono separati un attimo e lui le dice non fissarmi così comunque che c'è sembro un idiota e lei sì e l'altro no? non sono quel tipo di cose che dovresti dire in una situazione simile e lei prova di vincolarsi insomma i soliti bambini e poi lui senti infatti non voglio litigare con te nessuno litiga mentre ci si bacia e quindi ricominciano e l'altra pensa certo che mi bacia con tanta in maniera molto bellina insomma dove avrà imparato e poi si rende conto della situazione in cui si trova e della posizione in cui sono e insomma capisce di essere un po' troppo forward cioè troppo audace e tra l'altro si sente afferrare a un certo punto e basta si tira indietro e lei gli dice ma che hai toccato mi hai toccato il seno e l'altro sì e allora non farlo senza il permesso non si fa è roba mia lui dice allora ti devo chiedere il permesso sì cioè no non me lo devi chiedere perché non te lo darò e quindi lei fa la solita retrosa e lui a un certo punto le dice senti ma chi insomma chiariamo la situation non ti piace o di baciarmi le dice e lei non risponde e poi insomma finalmente un po' di sincerità e un po' di comunicazione gli dice non proprio e poi lui le chiede che cosa pensavi mentre stavo uscendo con Shigeru e lei rimane così e si ricorda di quello che gli aveva detto Anazawa Rui quando oppure io adesso lo chiamo con tutti e due i nomi quando aveva detto che insomma sembrava infelice infatti ammette che era scioccata al tempo e lui su casa davvero e lei di che cosa sto dicendo si sarebbe lasciata andare così in una situazione normale e su casa a questo punto le dice io voglio uscire con te adesso ti proteggerò da tutto quanto anche da mia madre e accetterò tutto quanto e lei insomma si rende conto che le sta parlando in maniera onesta e sincera e che lì deve rispondere con altrettanta sincerità e intanto fuori dalla stanza questi qua scemi stanno stanno cercando di entrare anche se poi scoprono che non si trovano in quella stanza lì davanti a cui si trovano loro ma torniamo a Tsukushi Makino Tsukushi e Tsukasa lei dice sarò onesta con te io forse ti amo un decimo di quanto tu ami me e questa è una di quelle frasi che mi piacciono perché ci vuole coraggio a dire una cosa del genere cioè magari posso pensare di ricambiarti ma sei tu che mi vuoi più di quanto ti voglia io non posso negare che un po' ti voglio però insomma è un po' opprimente come sensazione e l'altro un decimo e sei sicura? devo essere onesta risponde lei ok allora ci penso io per le altre nove parti e lei dice e se non ci riuscissi? se fosse così allora mi arrenderò e questa volta ti lascerò in pace davvero però non vorrei aspettare troppo a lungo ti do due mesi di tempo per accorgertene insomma vorriamo fare una prova e quindi lui le dice mi risponderai però voglio una risposta rapida mi rispondi entro le sette fra tre ore in realtà dice tre ore sono abbastanza per pensare a questa cosa e poi sentono un rumore da fuori vanno ad aprire e chi ti trovano? Claudia dice che belli i loro volti comunque molto belli si è cominciato a disegnare meglio e intanto gli amici sono arrivati a interromperli e quindi stavano facendo lezioni di matematica perché lui aveva detto non che non aveva detto io metterò in questa coppia gli altri nove decimi aveva detto metterò io gli altri nove quindi gli stavano facendo la matematica e intanto Tsukushi è lì che arrossisce e pensa ma che stanno facendo qui no? ci stavano spiando mentre ci baciavamo Nishikado le dice che cosa farà Tsukushi? anche lì Rui la guarda in maniera benevole e lei pensa potrei amare Domi Oggi quanto ho amato Anazawa? intanto gli altri scherzano tra loro e lei pensa insomma al regalo che forse ci può provare così e la mattina dopo è arrivata e intanto sta venendo a svegliarla col megafono Tama e in realtà Tsukushi è già sveglia piena di energie dice che andrà lei a svegliare Tsukasa e Tama e la pulizia ho finito ho finito di pulire mi sa che non ha dormito questa di nuovo e va a svegliarlo buongiorno signorino e anche l'altro è già in piedi e pensa non hai dormito? non sono riuscito non ci sono riuscito e gli F3 no? gli altri tre stanno dormendo in qualche stanza degli ospiti e allora lei dice senti ho la tua risposta uscirò con te yeee finalmente e lui è sorpreso e lei cercherò di essere onesta con te e con me stessa poi fra il sé ha comunque questa paura non dovrai in realtà giocare con l'amore in questo modo Claudia è lì che dice sì fiesta però Tsukushi finalmente è arrivata a capire che forse è il momento di capire davvero i suoi sentimenti Claudia dice trenino pepepepe Rolias dice è arrivato giusto in tempo bravo giusto Sara dice un parto ma ce l'abbiamo fatta decisamente e tanto all'altro è lei mette le mani davanti la faccia ehi c'è qualcuno a casa e l'altro finalmente si ripiglia zitta ho capito ho capito quello che hai detto Tsukushi nota che sta arrossendo gli chiede se è felice no devo prepararmi per andare a scuola anch'io e quindi esce dalla stanza nonostante abbiano appena concluso in teoria questa cosa e quando esce dalla stanza sente che dietro la sua spalla è un urlo di gioia incontenibile e infatti l'altro sta esultando Claudia dice è morta per la felicità esatto si è già ripigliato e poi lei pensa ma è così felice no questa parte insomma infantile di lui mi piace moltissimo e gli amici arrivano anche loro che non insomma si promettono finalmente ti sei decisa piangono dalla gioia la tua gentilezza lo cambierà in una persona normale e lei dice ma veramente solo per due mesi e gli altri pensavo di dovermi prendere cura di lui per sempre la sorellona sarà felice finalmente smetterà di essere violento dobbiamo fare festa stanotte insieme e l'altro sta provando a dire veramente è solo per due mesi è una coppia di prova insomma e niente gli altri continuano a festeggiare esultare lei pensa non mi hanno ascoltato poi le chiedono perché non lo aspetti per andare a scuola e lei potete andare a scuola tra voi insieme perché sono così esaltati no comunque lei arriva a scuola e pensa non voglio che questa cosa si sappia in giro perché l'ultima volta che era stata la fidanzata di Domi Oggi tutti all'improvviso erano diventate falsamente carini con lei qua pensano tutti che non vedo l'ora che si sposino dice Claudia ma quando va in classe questa volta la guardano tutti malissimo si è saputo in giro probabilmente di nuovo Nishikado è stato Katsuya va da lei e le chiede ma veramente stai uscendo con Domi Oggi e non può negarle dice sì certo e infatti arrivano all'ora di pranzo gli F4 Makino andiamo a pranzare e Mimasaka eh sì una coppia deve pranzare insieme cioè Tsukasa come i bimbi chiediglielo e tutti quanti in silenzio ad aspettare lui andiamo e lei sì no questa sorprende ancora di più tutti perché sapevano che aveva questo modo di fare quindi dopo che se ne va e lascia l'aula casino generale Tsukushi è lì che arrossisce e pensa perché non potevi stare cos'è una mosca perché non potevi stare e startene zitto anche Atsuya intanto tra sé pensa Tsukushi ha scelto il denaro e lei è scocciata da tutta questa situazione non è una situazione normale che insomma tutti le stanno addosso e sapete da persone che a suo tempo è stata molto riservata un po' la capisco cioè mi darebbe un fastidio uno è già incerto sui propri sentimenti o sta appena cercando di navigare in una nuova relazione e tutti devono fare commenti in merito devono fare illazioni cioè è veramente noiosino vengono lasciati da soli dagli altri F4 Tsukushi pensa due mesi così non resisterò mai e sono lì a pranzare insieme nella mensa e tutti che li fissano Tsukasa commenta la gente comune è così noiosa comunque a me non importa Tsukushi dice a me sì invece non è così che avevo immaginato l'inizio di questa relazione dovremmo comportarci in maniera naturale e invece già mi sto pentendo insomma questa cosa non è normale e l'altro come no alla fine lo è forse per lui pensa Tsukushi perché non mangi sì mangerò perché non riesce ad essere felice le chiede lui non ti ho visto sorridere dalla scorsa notte poi insomma quando sono solo loro due lei si calma un po' di più e gli dice scusami perché sono nervosa e lui sapevo che una insomma popolana come te sarebbe stata nervosa ma non rifiutarmi per via di questo cioè per via delle pressioni esterne e lei capisce che lui la sta comprendendo comprende che lei come al solito sembra dare più importanza a ciò che li circonda che chi ha lui e quindi pensa di dover essere un po' più decisa insomma e quindi adesso di nuovo anche se già stava stava pentendo adesso dice no devo continuare così devo capire quali sono i miei sentimenti l'idea lì dice ma ditemi in quale scuola succede una cosa del genere ma gli altri non hanno una vita sì no infatti e poi pensa non ho mai avuto un fidanzato però e non so che cosa fare e finalmente va a parlare con l'amica e le rivela tutto insomma Yuki dice e ci vivi pure con questo fidanzato hai una vita dura e poi le chiede ma lo ami allora non lo so però ci proverò per un paio di mesi però le altre persone non ci lasciano in pace e non riesco insomma a darmi una calmata e Tsukushi Yuki le dice però dovresti provare tante cose e l'altra tante cose non capisce a cosa si riferisce e Yuki certo che è una mente perversa guarda che io parlavo di altro e Tsukushi dice perché tu che fai col tuo fidanzato le solite cose andiamo in biblioteca andiamo a fare skateboard o a fare shopping e Tsukushi è lì che pensa di fare tutte quelle cose secondo me oggi e che sarebbe assurdo e infatti dice non riesco a immaginarmelo no? e perché lui non farebbe mai una cosa del genere e questo a questo punto Yuki dice qualcosa di molto molto saggio dice non devi metterti tu al suo livello no? ma devi capire che lui deve provare a vivere nel tuo mondo per i prossimi due mesi cioè non devi adattarti tu a lui altrimenti che relazione è almeno non esclusivamente vi dovete trovare nel mezzo no? cerca di fargli fare qualcosa che avete in comune e lei pensa non credo che gli piacerà per nulla se ti ama dice Yuki lo farà per te ti avverto come tua amica che se Domioggi non insomma non fa queste cose per te allora faresti meglio lasciarlo e c'ha ragione sapete cioè che lei abbia paura persino di chiedergli di fare una cosa che le farebbe piacere sì non è è un problema per una per una coppia Tsukushi pensa che Yuki adesso è più determinata forse perché ha trovato un fidanzato è un po' più matura e lei infatti dice io mi prendo cura di questa situazione domenica ho un appuntamento con questo mio fidanzato e naturalmente faremo le cose che fanno le persone normali perché non vieni anche tu con Domioggi in un doppio appuntamento su cui scegli che pensa oddio un doppio appuntamento alla maniera delle persone comuni insomma ok ma accettato e pensa che fa fatica a chiederglielo perché magari Domioggi non andrà d'accordo col fidanzato di Yuki e forse si veneranno e Yuki però le dice poi le aveva confessato che anche lei era un po' nervosa per questa cosa perché nonostante a questo fidanzato volesse abbastanza bene non lo conosceva ancora così tanto per questo vuole passare il tempo con lui per imparare a conoscerlo se vieni anche tu mi potrai dare una tua opinione su di lui come persona imparziale e quindi deve andarci decide di andare da Tsukasa che intanto è sempre con gli altri amici che non fanno altro che spronarlo e gli dice devo parlarti sta per lì per chiedergli usciamo in un appuntamento però fa fatica anche perché ci sono gli altri e poi cerca di darsi una mossa puoi farce la Tsukushi e ci riesce no? appuntamento un appuntamento e lui rimane con questa faccina qui mi fa morire e lei poi insiste che ne dice di uscire insieme guardate poi sembra che stia volando di domenica e poi mi oggi prova a far finta di nulla se proprio ti va no? ci pincerò e poi lei se ne salta fuori con l'ulteriore dettaglio ti ricordi della mia amica Yuki e l'altro sì me la ricordo anche lei è un fidanzato mi ha chiesto di uscire in un doppio appuntamento e in Masakini ci cado subito capiscono il pericolo ci incontreremo alla statua del cane questa è stata un parecchio molto famosa in tutti gli anime e gli altri due sono scandalizzati ma davanti a quella statua è una cosa così passè nessuno si incontra più lì Tsukushi dice sì infatti è il vostro tipico appuntamento da popolano voglio che tu faccia finta di essere una persona comune normale gli altri due le dicono ma Machino noi non siamo comuni studenti liceali però poi dicono su casa però Machino comunque te l'ha chiesto dovresti accettarlo e lui guardate come si comporta non se ne parla perché dovrei uscire con un estraneo queste cose no eh perché poi tanti discorsi di ti amo combattere contro mia madre così e poi no a uscire a un appuntamento con un'amica di lei no infatti lui dice perché poi dovrei comportarmi come una persona comune e lei gli chiede non potresti provarci almeno una volta e lui no non lo farò e se ne va sbattendo la porta quasi praticamente e Nishikado prova a scusarlo dice senti lui a quel tipo di ragazzo anche se ci prova non andrà bene e lei eh lo so ma non non capisce che deve arrivare un compromesso e gli altri ridono ma certo che non ci arriva no non ha mai fatto un compromesso per nessuno non è mai fatto uno sforzo per nessun altro e lei poi è tornata a lavorare pensa ok bene non gli chiederò mai più nulla dovrebbe pensare anche a me perché alla fine se si comporta così non so davvero se siamo fidanzato e fidanzata e c'ha ragione Lady Alin dice poi fa bene Tsukushi a lascialo perdere anche lui deve fare degli sforzi per lei dice Claudia sì infatti e poi la domenica è andata lì da sola Sara dice sono cresciti in ambiti troppo diversi devono fare degli sforzi in più per capirsi decisamente perché non può andare così Tsukushi da questa parte ci sono Yuki e il suo friend questo è Nakatsuka e l'altro la saluta e le dice ho sentito parlare di te Tsukushi è un po' stranita pensa che è un ragazzo carino però pensava che a Yuki piacesse un tipo di persona diversa e l'altro è lì che si aspettava un doppio appuntamento e chiede dov'è quest'altro fidanzato e Tsukushi si vergogna un po' beh e Yuki capisce che non sarà lì Tsukushi dice scusa non sono riuscita a convincerlo no vabbè non importa possiamo divertirci tra noi e Tsukushi dice no no non voglio disturbarvi sono solo venuta qui a dirvelo e poi se ne sta per andare già e spunta Tsukasa oh e quindi ha fatto questo sacrificio le dice mi sono bloccata dal traffico ma chi non ho presentami e quindi conosci già Yuki questo è il suo fidanzato Nakatsuka-kun questo è Domiogitsu casa il tuo fidanzato le chiede l'altro e lei arrossisce qualcosa del genere e l'altro piacere di conoscervi e poi fate le introduzioni insomma fatto si è comportato in maniera educata che qui però il fatto che lei si stupisca che l'altro si comporta in maniera educata cioè il minimo di persona civile è un problema l'altro ragazzo è tutto allegro vabbè andiamo a mangiare e poi Tsukushi mentre sono un attimo un po' indietro chiede a Tsukasa avevi detto che non saresti venuto e lui le dice zitta no solo questa volta e lei sorride alla fine ok no incredibile che abbia fatto questo sforzo ha persino detto piacere di conoscervi e sta ridacchiando fra sé e lui se ne rende conto e dice non ridere o ti ammazzo e poi vanno in una specie di fast food e lui le chiede lei gli chiede Domioggio hai mai mangiato un hamburger no e il tizio commenta dicendo ma che sei un figlio di papà in pratica e cos'è un figlio di papà e Tsukushi no no non niente del genere e poi il tizio le chiede ma sei davvero alto quanto sei alto e lui dice 185 centimetri sei un wrestler professionale qualcosa del genere sono sempre i due tizi che parlano i due ragazzi Tsukushi è lì che non interviene ma pensa è violento come un wrestler e il tizio è un po' troppo si prende un po' troppe confidenze dice quello sono i tuoi veri capelli no? sono strani no? e Tsukushi comincia a essere nervosa perché quello è un atteggiamento che di solito Domioggi non sopporta infatti dice sì sì sono i suoi capelli originali no? e l'altro fa un commento sui suoi capelli paragonandoli a del cibo no? e l'altro non capisce insomma questo nomignolo e il tizio se ne accorge e dice ma cos'è? non conosci quel prodotto era comune quando ero un bambino e quell'altro non fa che dire frecciatine no? ah sì anche il tuo nome è strano insomma si trova un po' a disagio Tsukushi o Yuki il tuo fidanzato è un po' troppo diretto mi chiedo se Domioggi insomma scoppierà tra non molto Sara dice non mi piace ragazzi di Yuki è troppo invadente io l'avrei mandato a quel paese sì esatto però certo che in una relazione uno si deve anche aspettare che sì lo mandi a quel paese ma non devi aspettarti che il tuo tizio possa menarlo così solo perché l'altro gli ha parlato male no? e infatti a un solo punto Domioggi commenta ma questo che carne è per caso è coniglio e l'altro no è manzo no sta solo scherzando e il tizio ne approfitta subito non hai mai mangiato manzo però glielo chiede come per dire ma sei scemo? e Domioggi fa quella faccia di quando di solito sta per esplodere con quegli occhi di ghiaccio e dice davvero pensi che non l'abbia mai fatto e l'altro si mette a redire ah ah stavo scherzando e Tsukushi pensa questo tragico evento è iniziato e poi si preparano a decidere cosa fare durante la giornata l'altro propone di andare a Luna Park Tsukushi e io che sono felici e l'altro poi si rivolge di nuovo Domioggi dice sei messato in una Luna Park e Domioggi dice quando ero all'asilo e quindi sempre queste frecciate ecco è per questo che sei così infantile gli dice e Domioggi si fa si scricchiola le nocchie insomma preparandosi a menarlo e Yuki si porta via il tizio dice subito andiamocene e quindi vanno a Luna Park e finalmente l'altro propone qualcosa di sensato dice senti perché non ci separiamo per un attimo ci incontriamo qui fra due ore perché sono due coppie quindi ognuno per conto suo no e poi quando sono da soli Tsukushi dice guarda sembra che vadano d'accordo e Domioggi finalmente si lascia un attimo andare dice tutti gli appuntamenti dei popolani insomma sono come questi quello che si crede di essere la tua amica ama quello S-T-R-O-N-Z-O e quindi è tutto incavolato Tsukushi si scusa un attimo dice mi dispiace pensavo che Yuki avrebbe scelto un ragazzo gentile puoi andare a casa se vuoi e lui le dice se andassi a casa adesso poi dovresti trovare una scusa con la tua amica non preoccuparti non lo picchierò quel bastardo però si sfoga rovesciando un cestino e Tsukushi pensa come posso fidarmi di te se sei così violento e poi Tsukushi propone di stararlo insomma per provare a fare qualcosa di divertente sei mai salito su quella giostra no? e quindi ce lo porta e vanno tutti felici lei è contenta e l'altro è svenuto Claudia dice ma come ti permetti Domioggi ha ragione se io fossi se io fossi in Tsukushi difenderei Domioggi non è nella maniera di fare giapponese questo difendersi in questo modo cioè in generale i giappi si aspettano che l'altra persona sia educata e si dia una calmata e se non ci riesce insomma ci si allontana lei si sta comportando nella maniera giapponese lo sa che infatti se ne accorgono tutti e tre tranne quel deficiente lì che lui è inopportuno però e come dicevo io almeno io mi aspetterei che fosse così se anche un antipatico non mi posso stare lì ad avere paura che il mio tizio lo meni che si comporti come se avessi 5 anni non si può vivere così e intanto comunque lo sta portando in giro e lei è troppo felice di aver fatto quell'autovolante vanno in un altro ottovolante non mi oggi è svenuta ancora poi vuole andare nella casa degli spiriti lui dice non voglio e lei ma che hai paura e quindi lo convince ad entrare e lui fa il superiore sono solo bambole però in realtà gli vengono dei sussulti e lei sta lì che ride di lui e poi si lascia davvero spaventare da qualcosa da una e questo mi ha fatto che parla le risate da una controfigura che lo prende fa la mossa del wrestling perché ha usato spaventarlo un figurante della casa e infatti però questo mi ha fatto solo ridere su cui uscì è lì che e infatti scappa via idiota ci dispiace questa parte prima quando l'ho letto ha riso come non so che davvero divertentissimo infatti dice domi oggi ma che diavolo stai facendo e l'altro certo che però ora mi sento meglio ora che ho spiegato la sua violenza e poi si mette a ridere anche lei anche se all'inizio sembrava che stesse piagnucolando e si mettono a ridere mentre sono sulla ruota panoramica e lei pensa era da tanto che non ridevo così comunque i capelli in pratica le erano finiti in bocca lui gli è li sposta con una carezza e poi si è avvicinato e lei ma siamo sulla ruota panoramica sì ok non importa insomma lei fa sempre questa faccia da oddio sembra una bambina delle medie su queste cose e poi gli apre la porta l'inserviente dice è la fine della corsa ragazzi cioè ma non ti hanno insegnato che almeno un minimo di privacy alla gente e quindi le deve far scendere su cui ci pensa sempre devo prendermi cura di me o altrimenti un giorno di questi mi salterà addosso e in realtà erano lì vicini gli altri due anche dice anche noi eravamo sulla ruota panoramica e l'altro sempre con questo atteggiamento di sfida di competizione gli chiede ti sei divertito e dicami oggi pensano di andare a bere qualcosa adesso e il tizio Don Mioji potrebbe non saperne tanto di succhi di frutta mi sa quei succhetti che danno nei distributori automatici e Tsukushi si rende conto che questo qui sta sempre a stuzzicare Don Mioji e a un certo punto Don Mioji dice ma Kino devo andare in bagno e pensa che è un peccato perché prima lui era di buon umore però sembra che stia imparando a essere pazienti rimangono un attimo da sole Yuki e Tsukushi e Yuki le dice dove sono andati Don Mioji è andato al bagno in Akatsuka Kun è andato a prenderci insomma qualcosa da bere Yuki si scusa perché il suo fidanzato di solito non si comporta così e si sta comportando in modo strano però non ha qualche ragione forse vuole diventare amico di Don Mioji no? Tsukushi che pensa amico di Don Mioji non mi sembra proprio e intanto dall'altra parte Don Mioji mentre sta tornando al bagno incontra il tizio che sta parlando con un paio di ragazze e il tizio dice oh eccolo qui è il mio amico e intanto Don Mioji li ha superati il tizio segue Nakatsuka segue Don Mioji e dice ehi quelle erano i miei amici e ti piacciono quel tipo di ragazze vero? perché non ti unisci a noi stanotte le incontro alle sette di sera no? non pensi che un uomo dovrebbe uscire con quante più donne possibile anche se sono fidanzato insomma anche se la mia fidanzata a Yuki a volte ma annoio un bastardello traditore Don Mioji cerca di ignorare sto tipo ci stanno mettendo un po' su cui si sta allarmando e sta andando a cercarli e il tizio dice ehi tizio anche tu dovresti insomma divertirti un po' sai quante ragazze ci sono in giro che sono più carine della tua fidanzata? e l'altro ma sai con chi stai parlando? non mi toccare intanto le altre due le hanno raggiunti sono lì e il tizio dice certo so con chi sto parlando con quell'infantile di Don Mioji e l'altro lo prende e lo mena e Tsukushi gli ha visti insomma e arriva in tempo e pensa no lo ha fatto davvero cioè ha menato forte quest'altro tizio tutto ciò ha il contorno di un fraintendimento terribile Nakatsuka-kun va a prenderlo Yuki no stai bene? Don Mioji dice ehi non prendermi in giro e poi si rivolge a Machino andiamo a casa non ce la faccio più se questo è il modo in cui le persone comuni hanno i loro appuntamenti non lo farò mai più ti rivolge direttamente a Yuki se hai un fidanzato per favore cercane uno migliore che ovviamente Tsukushi si incavola Don Mioji e intanto l'altro si alza e dice qual è il suo problema io ho solo toccato la spalla è sempre così violento e Tsukushi è lì che pensa solo ho toccato la spalla sì non ho fatto altro è deficiente e Tsukushi è costretta a scosarsi Don Mioji idiota pensa tra sé mi dispiace mi dispiace si inchina a volte perde la testa e il tizio dice non voglio più sentire scuse di questo genere anche tu dovresti scegliere un ragazzo migliore Nakazuka intanto Yuki che prova a scusarsi e l'altro se ne va me ne vado sono arrabbiato insomma è stato un disastro di doppio appuntamento e Tsukushi cerca di scusarsi con la sua amica non sa come scusarsi con lei e lei dice no non ti preoccupare mi chiedo se Nakazuka abbia fatto qualcosa Don Mioji non picchierebbe qualcuno senza ragione Tsukushi dice veramente potrebbe farlo e Yuki è lì che piagnucola pensa ma Nakazuka insomma sembrava che stesse sempre sfidando Don Mioji si comportava in modo diverso dal solito solo che è il mio primo fidanzato e volevo fidarmi di lui e Tsukushi è triste pensa oddio prima era così felice ed è tutto finito in un giorno solo e intanto Tsukushi corre a casa e pensa è tutto per colpa di Don Mioji e quindi va a cercarlo che quattro sono sempre lì gli chiedono come è andato il doppio appuntamento e lei niente è determinata dice dov'è Don Mioji sembra che sia andato nella sua stanza a farsi una doccia e si sta e l'altro è uscito mezzo nuda lei non gliene frega niente gli chiede ma che stai guardando voglio che ti scusi col ragazzo di Yuki perché mi devo scusare con quel bastardo lì intanto gli altri vengono a vederli mentre litigano Tsukushi dice come perché ti devi scusare lo hai picchiato te ne sei andato e l'altro come al solito scusarsi non è nel suo vocabolario figurati volevo persino ucciderlo che ha fatto per far sì che tu lo picchiassi e lui sta in silenzio e dice non voglio dirtelo se non me lo dici come faccio a capirti l'ho picchiato perché mi sentivo di farlo e lei gli dà io molla uno schiaffo e lui che diavolo hai fatto l'ho picchiato perché mi sentivo di farlo anch'io detestavo Nakatsuka solo che non è giusto utilizzare la violenza per risolvere qualunque cosa comunque questo non va bene perché loro hanno rotto adesso per colpa tua e intanto gli F4 dicono ma è finita tutta questa questa storia d'amore insomma è finita in quattro giorni e Tsukasa è lì che dice ah l'hanno rotto no? bene e Tsukushi vuole menarlo ancora di più Nishikado la ferma e lei mostra pure il tuo medio e gli dice ti odio sei peggio che uno stronzo in pratica sei un maledetto e anche lui la insulta perfetto strega questa è la fine per noi lasciamoci ed è finita così e lei se ne va arrabbiata non è possibile la gente deve imparare a controllarsi in occasioni del genere intanto passa vicino a Tsubaki che dice Tsukushi perché non me l'hai detto che tu e mio fratello vi siete messi insieme l'abbraccia e dice ho sempre desiderato avere una una sorellina no? e l'altra veramente ci siamo appena mollati non posso uscire con lui più e adesso me ne andrò presto via da questa casa scusami e Tsubaki rimane così ma è durata solo quattro giorni e lei piange pensa ha picchiato qualcuno solo perché è scattato no? se tutti quanti lo facessero l'umanità si estinguerebbe c'ha mica ragione è solo un ragazzino pensa tra sé il giorno dopo a scuola già sto bronce in faccia qualcuno prova a chiedere se c'è qualcosa che non va e lei non è affare vostro e c'è anche quella antipatica lì che dice ma come fai la la superiore e Tsuki e l'altra gli dice sta zitta cretina o peggio e poi l'altra si 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 spaventa perché ormai sa che lei è la fidanzata di Domi Oji insomma che potrebbe succedere di qualcosa e Tsukushi pensa ecco questa per esempio è una che io odio però mica lo sono stata a picchiarla riesco a controllarmi riesco a ragionare con le persone e poi va a parlare con Yuki e Yuki le dice non è venuto a scuola oggi il mio fidanzato intendeva hai provato a chiamarlo le chiede Tsukushi e Yuki dice non mi risponde non ti preoccupare Tsukushi sto bene a volte non lo capisco se è finita così forse non mi amava così tanto e c'hai ragione anche tu ma almeno tu vai ancora d'accordo con Domi Oji in fondo è un bravo ragazzo anche se non voleva venire al doppio appuntamento ci è venuto per te vero? e Tsukushi insomma non ha il coraggio di dirle che si sono mollati ma c'è stato il fumo dietro le mie spalle e intanto nel parco ci sono un sacco di coppiette quindi adesso vogliono andarsene perché non vogliono stare lì in mezzo alle altre coppie e guardate chi trovano nel parco il fidanzato di Yuki che sta cercando di farsi una ragazza dice perché non vieni nella mia stanza allora e l'altra ci sta e si rendono conto del traditore maledetto che è e la tizia dice ma tu non hai una fidanzata? oh non mi importa tanto abbiamo già rotto mi sono stufato di lei siamo andati alla biblioteca al parco e a cavolate del genere pensi che potrei divertirmi facendo cose così infantili e la tizia ride oh hai dovuto sopportare cose del genere e Tsukushi è incavolata dice ma chi cavolo pensa di essere questo qui e lui si rende conto che ci sono quelle due che li guardano e per un momento si paralizza e l'altra tizia dice che c'è Yuki sta per piangere la tizia dice ma chi sono? le conosci? e questo qua ha il coraggio di dire no non le conosco una di loro va alla mia stessa scuola tutto lì cioè non l'hanno manco rotto davvero e Yuki scappa il tizio ha addirittura il coraggio di dire a Tsukushi è meglio se le vai dietro chissà che cosa potrebbe fare Tsukushi si incavola gli dice aspetta un po' tu che c'è no? ho detto di aspettare e il tizio poi dice all'altra senti non puoi aspettarmi lì all'angolo e poi vado a Tsukushi e le chiede che vuoi da me che cavolo stai facendo? che cosa provi nei confronti di Yuki? non è a far tu mi sono semplicemente annoiato con lei non mi lascia andare a letto con lei e poi mi chiede addirittura di andare in un doppio appuntamento pensi che i ragazzi piaccia fare piaccia fare cose del genere poi il tizio arriccare la dose dice ma sembra che il tuo fidanzato non sia normale io ero ero gentile con lui stavo cercando di presentarlo a nuove ragazze ma mi ha picchiato ti suggerisco di lasciare quel deficiente il più rima possibile e si mette pure a ridere e Tsukushi sfodere il pugno e lo mena e l'altro guardate che bastardo prova a picchiarla di rimando ma lei ormai allenata a Leitoku schiva e lo mena di nuovo bravissima lo minaccia dice non cercare di avvicinarti mai più a Yuki e poi lo molla lei lasciandolo per terra e dice Yuki devo devo trovarla che starà piangendo e poi si ricorda anche di quello che aveva detto Tsukasa che Yuki doveva trovarsi un ragazzo migliore migliore e tra sé Yuki ma a chi non pensa domi oggi mi dispiace l'ho fatto ancora non mi sono fidata di te allora vorrei fare un piccolo commento su questo punto mi dispiace non mi sono fidata di te ok ma scusami ho capito che a lui dispiaceva dire che il bastardo del fidanzato stava tradendo la sua amica ma non poteva spiegarsi è fine del problema cioè si erano chiariti e invece no ha dovuto di nuovo dire queste cose così cioè comportarsi in questo modo intanto Yuki è in giro che sta caduta per terra sta piangendo e qualcuno la vede da una macchina e si ferma a prenderla ed è Nishikado la conosce perché erano andati in vacanze insieme in Canada e la porta nella sua casa e lei è lì che è tanto triste e piagnucola non riesce a malapena a reggersi in piedi l'altro la console dice che è successo mi dispiace e lei piange sono un'idiota in realtà stavo andando in giro con un'altra ragazza e ha detto che si era annoiato di stare con me e Nishikado dice ha osato dire una cosa del genere a una ragazza carina come te e solo un maledetto lui stava con una ragazza molto più bella e io non sono carina per niente e l'altro no smettila di auto incolparti Claudia diceva commentando quello che dicevo prima e ora direi che bisogna andare da Domioggi a bracciarlo stretto stretto pensa che aveva paura che non le avrebbe creduto ma Kino se gliel'avesse detto eh ma problemi di comunicazione in continuazione ecco anche Sara dice la stessa cosa davvero a me non era venuta in mente secondo me no invece le avrebbe credute come Nishikado dice non devi sottostimarti devi dire a te stessa sono anch'io attraente sono anch'io carina non pensi che sia migliore provaci insomma l'aiuta a sentirsi meglio non deve paragonarsi con quell'altra e lui che ha questa famiglia che è molto tradizionale le fa la cerimonia del tè anche se non so come farlo per bene spero che accetterai questo mio tè e lei ma io non so come bere il tè tradizionale in realtà è una cosa con un grosso cerimoniale in Giappone e lui ride non devi fare niente di particolare bevile e basta e poi l'altra tossisce perché è amarissimo questo tè e l'altro le dice sì il tè giapponese è come l'amore se rimani ferita puoi imparare cioè perché dice che col tempo la gente impara ad apprezzare quel sapore amaro così non farai più lo stesso errore la prossima volta e lei sì ok e poi lui si alza ne scicata e dice adesso mi cambio i vestiti e usciamo e lei no no posso andare a casa da sola no no mi prenderò io cura del tizio cioè ci penso io al tizio e l'altro in che senso no quello che ti ha che ha dato fastidio su casa a Machino è a te e lei che intendi naturalmente ci prenderemo la nostra vendetta e l'altra vendetta non posso far finta cioè non posso permettere a questo tizio di credersi chissà questo gran playboy e Yuki è un po' titubante dice adesso andrei a picchiarlo no no però posso uccideremo se vuoi e lei no no grazie no no lui non è mica su casa dice lo punirò in una maniera intelligente insomma col cervello gli insegnerò che cos'è un vero playboy ragazzi ecco questo era il capitolo a cui ero arrivato e mi fermerei qui prima che diventi ancora più tardi che state pensando della storia vi sta piacendo vi immagino di sì se siete a questo punto questo è il rapporto a cui mi riferivo tra Yuki e Nishikado perché si svilupperà in un modo completamente diverso da quello tra Makino e Dami Oji Claudia dice altro che Nishikado mi piace tantissimo è un ottimo amico dice Sara io amo questa storia Le Dailin dice bella bella la storia sì e finalmente scusate qualcuno di voi che ha visto l'anime queste cose c'erano nell'anime perché sennò devo pubblicizzare questa parte per dire che prosegue dalla storia dell'anime c'erano mi sembrava di no qualcuno me la dica intanto che bevo ecco allora finalmente questa è la continuazione dell'anime non c'era questa parte qui e vedete che era fondamentale cioè nell'anime era tutto un cercare loro di rincorrersi a un certo punto si mettono insieme nell'anime nella penultima puntata e poi no nelle nella second'ultima puntata si dice così ma poi fanno un casino terribile sul finale che è una cosa ridicola un finto matrimonio con Shigure che in realtà era solo un modo per Tsukasa di scappare dal sua madre una cosa ridicola peccato perché poi anche lì si mettono insieme per due minuti Tsukasa e Tsukushi ha questo bacio straordinario che forse ricalca un po' quello che si è visto qui tra di loro dopo il dono della collanina si si dice nell'ultimo drama è super comico l'anime si è fermato prima dice Sara Roles dice il rapporto tra Yuki e Nishikado nel live action non mi era piaciuto tanto non so se nel manga o anime sia diverso non so dirti se sia diverso so che a me era piaciuto parecchio chi vivrà vedrà o chi vivrà vedrà altri miei video in cui racconterò le altre parti siamo al capitolo 120 e qualcosa e quindi siamo più o meno a metà cosa sta diventando interessante dice Sissi nell'ultimo live si mettono insieme beh no non ho dubbi che il live sia andato insomma più avanti è solo un po' la strada è lunga dice Lady Eileen sì però da qui si fa più interessante perché avete visto che c'è stato un cambiamento nel modo in cui i due si rapportano tra loro un piccolo primo cambiamento cioè Tsukasa si pone in una maniera onesta lei per una volta non si mette più a scappare tanto così semplicemente gli parla lui le comunicano lui le chiede voglio mettermi insieme a te lei forse ti amo solo un decimo di quanto mi ami tu e quindi sono onesti con quello che provano poi saltano fuori e questo mi piace perché è anche realistico comunque per il personaggio dei domioggi quei problemi che con lui ha sempre avuto aveva ragione lei parte della sua reticenza veniva dal fatto che comunque lui è così prepotente pensava solo a se stesso dimostrato da come le rispondeva quando lei diceva non voglio cioè voglio uscire voglio provare a uscire in coppia e lui no subito cioè non si può non è questo un rapporto però vedete che sembra che imparino tipo con lui con lei che va lì a dirgli non puoi picchiare tutti quelli che ti fanno girare le scatole quando lui le risponde l'ho picchiato l'ho picchiato perché mi va e lei ecco l'ho picchiato perché mi va questo è uno di quei passi piccoli in cui si capisce che piano piano domioggi cambia il suo modo di essere ed è questa una cosa che l'autrice è riuscita a fare sembra quasi che lo dica non solo a domioggi ma anche a se stesse e a noi lettori cioè che non era giusto il modo di fare di domioggi questa cosa di lui che si comportava che non la lasciava respirare non la lasciava vivere faceva tutto quello che voleva solo lui Claudia dice si vede che si divertono insieme stanno bene devono solo crescere anche insieme esatto Sara dice è vero qui comincia la svolta lui cresce tanto anche se ogni tanto viene fuori la parte violenta lei invece è quella che fa più fatica a fidarsi sì esatto penso che parte delle sue ritrosie reticenze derivino dal fatto che insomma viene da una famiglia che non le ha dato sicurezze vorrebbe qualcuno che la facesse sentire così a suo agio tranquilla come era nel caso di Rui perché già di sua madre di suo padre non si può fidare la madre che la usava in un certo senso pretendeva solo che lei avesse questa vita ricca sposandosi con un riccone il padre che doveva essere sostenuto ogni 5 minuti e poi in teoria una ragazza così avrà bisogno un fidanzato che la sostenga un po' di più e invece a questo ragazzo che a cui lei in un certo senso come si vede in questo primo appuntamento deve badare perché non può fidarsi che lui non non esploda da un momento all'altro Sara dice infatti io ma chi non la capisco abitata a cavarsela solo con mille difficoltà vorrebbe qualcosa di meno complicato sì esatto cioè questa non ha una vita normale già la famiglia è terribile perché è terribile avere una famiglia così e poi neanche nella sua vita personale Porella riesce ad avere un minimo di serenità e calma e quindi sì la comprendo però l'unica cosa in cui mi viene voglia a me di menarla è quando fa la reticente si comporta come se avesse cinque anni in relazione alle relazioni amorose questo sì non lo sopporto quella è l'unica cosa per il resto c'ha ragione in genere ok ragazzi grazie di essere state con me stati state con me anche questa sera e di aver avuto pazienza fino a oggi piano piano ce la stiamo facendo Pinguino dice ma pensate al povero fratello di Machino lui poverino è ancora in balia di quei pazzi folli decisamente ci vediamo tra una settimana Sara ci augura buonanotte a tutti quanti io lo auguro la mia volta a voi notte a Claudia notte a tutti quanti e ci vediamo al prossimo appuntamento Shows grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.